Grande successo per la 39esima edizione del Vivi Città che si è disposata ad Arezzo in zona a Saione, gara organizzata dalla WISP in collaborazione con la Col di Retti, la Confesercenti e la parte tecnica dell'Unione Polisportiva Policiano. Al via circa 300 atleti che hanno dato vita a una gara molto incerta sia in campo maschile che in quello femminile. Il percorso, molto bello e apprezzato dagli atleti per la parte impegnativa del Parco del Pionte e tutta la zona sud della città, con ambiente e tranquillità per valere sulla parte agonistica che pure c'è stata, con Taras, Ghinassi e Bucca a condurre nella prima parte di gara e il gruppo della Polisportiva Policiano ad inseguire con Cardelli e Annetti, Mori, Fatichenti e Celli. La vittoria finale se l'ha giudicata Alessandro Annetti nel maschile dell'Unione Polisportiva Policiana, Francesca Volpi in campo femminile dell'Avis Sansepolcro. Sono contento, il percorso era impegnativo perché era molto nervoso, molte cure, però era anche particolarmente pianeggiante, quindi dava modo anche a riuscire a fare una buona velocità e tenere un buon ritmo. È una vittoria, sempre una soddisfazione, indipendentemente dalla gara che sia, comunque ti dà sempre quella carica di adrenalina che te la tieni per anche una settimana. Diciamo bello, impegnativo, primo pezzettino, primo strappettino, poi comunque sempre col fiato corto perché c'è da tirare, punta piana, quindi viene da allungare il passo. È lo spirito di questa manifestazione, Vivi Città è giunta al suo 36esimo anno di partecipazione e si svolge in contemporanea in più di 60 città in tutto il mondo, in Italia e nel mondo. Uno dei temi che accompagna questa corsa è appunto quello della vivibilità delle città. Noi qui ad Arezzo la nostra particolarità è che l'abbiamo trasferita e voluta fare ed effettuare qui nel quartiere di Saione. Il quartiere di Saione è stato agli onori della cronaca, diciamo così, non sempre in maniera positiva, forse anche in maniera un po' esagerata rispetto a quella che era in realtà. Noi con questa corsa comunque accompagnati da Coldiretti per un discorso che ormai facciamo da tempo che riguarda una sana alimentazione e un'attività fisica corretta e da Confesercenti che in questo quartiere è molto attivo e ci ha accompagnato proprio per trasportare qui, come dicevo, questa manifestazione, per dare il nostro contributo a formare una comunità che partecipi, che si attiva.